Maria Cavagnero è una giovane fotografa nata nel 1981. Ha compiuto studi di fotografia in Spagna, a Barcellona, dove vive e lavora. Il progetto presentato per Microspace Competition si intitola Barcelona. La città, solitamente piena di gente, si ritrova sola, abbandonata dalla gente che è scappata alla ricerca di un luogo migliore e sembra quasi contorcersi su se stessa. Tutte le foto sono state scattate in zone di recente costruzione, che hanno preso il posto di campio, nel peggiore dei casi, di spazi e luoghi di aggregazione sociale. Maria, che ha intenzione di proseguire la sua indagine in altre metropoli, denuncia il processo di omologazione di tutte le grandi città del mondo che, in fase di speculazione edilizia, sembrano essere costruite secondo uno schema prefissato ed indifferenziato, che le rende omogenee in ogni zona del mondo. La critica alla cementificazione e all'omologazione diviene critica sociale. L'artista denuncia il piegarsi della volontà individuale alle scelte della società e, attraverso la distorsione visiva, ci mostra una città curva e primordiale, in una visione onirica che assume però i contorni dell'incubo.